Mercedes SLK200 Cg premium automatica del 2012 con solo 29.000 km auto aziendale Mercedes acquistata dall'unico proprietario un medico milanese che c'era venduta solo perché la moglie era in doccia attesa guarda il cruscotto, parla da solo Ancora in garanzia totale Mercedes, optional, tutto e di più cambio automatico con pad al volante, interno in pelle, navigatore, farelo seno, tentuccio panoramico full 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 e in più 4 gomme da neve quindi il medico l'ha cambiato perché ha fatto centro eh? eh sì però voi stateci attenti comunque perché se no fra nove mesi si chiamo bot eh sì eh sì ah eh sì eh sì eh sì eh sì